E ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Stef, e che si chiama Rattler? E oggi in più torneremo a giocare a una coppia e tante sfide Una serie che abbiamo lasciato un pochettino in pausa Ma che scommetto, non vedevate l'ora di rivedere Assolutamente sì, era una delle nostre serie preferite Abbiamo dovuta lasciare un po', diciamo, perdere Perché avevamo tante, tante, tante cose da portare nel canale E quindi, finalmente, era che siamo leggermente più liberi La possiamo riproporre Però, abbiamo cambiato totalmente lo stile del gioco per la sfida Questo è totalmente l'opposto di quello che abbiamo fatto Non lo so che i consulini sono abituati a vederci proprio lottare all'ultimo sangue A fare lotte epiche Gare, lotte, combattimenti, salti, testate sui muri Oggi, invece, faremo una cosa un pochettino più tranquilla Che a noi piace molto Perché è un gioco che un po' di tempo fa è andato tantissimo di moda Noi due ci nerdavamo tantissimo E quindi è bellissimo riproporlo qua Non c'è molto da spiegare perché è davvero semplice Vado! Ok Allora, ho già trovato la prima parola più bella per te Perdi Stai scherzando? Cioè, perdi E quindi, capito, la dedico a te perché è quello che succederà Allora, mi devo concentrare Sono qua, non ce la faccio Infatti, ho pensato a un piano per vincere Che non è totalmente leale Ferinichi? Quanto fa 3x2? Io non ti ascolto Cioè, spengo il cervello e faccio finta Di che colore è il cavallo bianco di Napoleone? E faccio finta che tu non esisti più Allora Puoi anche far finta Ma la mia voce la senti Sei la cosa più odiosa che esiste in questo mondo Eh, eh, vattene 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 Tutto bene Ti sento un po' strana Ce la faccio Stai trovando almeno qualche parola? Sì Comunque, come potete aver capito Bisogna semplicemente trovare in quella scacchiera Più parole possibili in due minuti È molto molto semplice Però non so perché è una roba in cui non riesco molto E Ferinichi Se la distraiamo Secondo me non fa un gran punteggio E almeno posso recuperare un po' È già difficile con Tecnotesituratio Eh, lo so, cara Ne sto trovando il più possibile Davvero? Aiuto Allora Ma quanto sei i punti? Non lo so Non sto guardando il punteggio perché ovviamente mi concentro Eh, sì Concentrazione incredibile Allora Io non vedo nulla Solo i consolini ti vedono Io purtroppo non posso vedere il tuo schermo in nessun modo Eh, lo so, lo so Quanto manca? Quanto c'hai? Quanto manca? 13 secondi dalla fine È quasi finito Allora faccio un countdown Dieci Nove Otto Sette Ferinichi perde Ferinichi non trova parole Non ci provare Ferinichi fa schifo Non ci provare Finito il tempo? Sì, finito Ok Ho spero di aver fatto un buon punteggio Quante ne ho trovato? 34 Eh E ho fatto Fammi vedere il mio punteggio di nuovo Perché non me lo fai vedere adesso? Ok Tocca per continuare Ok Mi stai lasciando la suspense Perché non me lo fa vedere da qui? Aspetta, pubblicità da chiudere Eh, vabbè 494 Eh? Al primo round Per intenderci ragazzi Io mediamente faccio 250-300 Al primo round Beh ma magari ti va bene Secondo me sta scacchiera di parole Era abbastanza semplice Ok Secondo me Io ci provo Io ci provo Te le consiglio io No, grazie Te le consiglio io Criceto Cioè, fidati No Criceto No Cercala, cercala Non la cerco Non ci casco Te le dico io Fini 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 Fino Guarda come sono bravo Non ti sento Eh ma io sono più brava di te Dovreste ascoltarmi Nida Ti consiglio tutte le parole Nida C'è anche Nire Non me ne vengono Nerd Wow Red No Troppo in inglese Stavo esagerando Sei in italiano Quindi fai attenzione Cadi Quello che succede Rafferini Chi oggi No, non credo proprio Non credo proprio L'unico che cadrà Dalla sedia sei tu Vuoi vedere? Perda Non toccarmi No 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 Non è ma via Ci sono Ci sono Sono un po' incastrato Ma ci sono Dai ma sono tutto Storto Mi hai fatto perdere Almeno 10 secondi Allora Non è utile ha capito Farti perdere tempo L'H Ma dai ma l'H A 2C l'H E lo so ma pensavo Ci fosse anche con una Nel senso qualche altra parola Di solito io faccio così Metto tutto con una E di solito una parola Ah ok Se lo dici tu Noca No Noci Noca a 2C Lo stesso Lo so ma di solito Mi dà che esistono Ride Rida E poi Dri Drine esiste Esiste Non esiste Penso io Questa è la tua soluzione Esatto Di fatto sto recuperando Ok Dai non male Non male Vedi che questa scacchiere Era abbastanza semplice Non male Non male Sì ma Quanto sei in vantaggio 100 Eh boh Boh Non lo so Adesso calcalare Riderai Ma come hai fatto A vedere Ma sei pazza Vabbè hai visto ridere Non hai visto riderai Scusami ma anche te No forse non ho fatto niente ridere Era tipo riderà Non lo so No non ho fatto niente quello Guarda che io recupero un sacco di partite Anche solo col rando finale Quindi non hai detto tutto Dai non hai detto l'ultima parola Io non ci spero Hai capito Non hai detto l'ultima parola Vai Che bella battuta Vai via Vai a pescare Non lo so quello che vuoi Ma vattene Allora chi fa adesso Facciamo in contemporanea Vai Proviamo Vai ci proviamo Vediamo Ci proviamo Allora Vita Oh no non devo dirgliela Dannazione Devi stare un po' zitto E quella è la cosa più difficile Mi è venuto spontaneo Dimmene una anche tu Dai che quella non l'avresti mai trovata Era difficilissima Ma ci sei scritta qui al contrario Vita Che difficilissima Era molto difficile a trovare Me ne devi una Su No non credo Sì sì dimmela Allora fai sta Ecco la parola Sta Ti piace L'ho fatta davvero Sappiamo Ti piace Meglio 8 punti di nulla Allora No Peccato Non posso Peccato C'era una parola bellissima Che non posso fare Hai trovato Mississippi Giusto Sì esatto Ok sì 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 L'ho vista anche io Non te lo volevo dire Però tanto ero sicuro Che l'avessi trovata È normale È normale Oh bello Non so se questa l'hai trovata Però questa vale un sacco Questa vale un sacco Oh è difficilina questa eh Non ci crederete mai Ma siamo riusciti a baggare il gioco Praticamente iniziando la partita in contemporanea A me l'ha annullata Non mi è mai capitata una cosa del genere Non so perché in video riusciamo sempre a baggare i giochi Giocare in contemporanea non era una buona idea Infatti io l'ho dovuto rifare Però più o meno ho fatto lo stesso punteggio Ora non ricordo più precisione però Avevi fatto 120 punti Ammettilo Ma non è vero La registrazione di prima c'è Quindi non puoi dire che ho barato Non puoi dire Allora 250 punti di differenza C'è il terzo round Lo voglio fare prima io Vai Ok Tanto sì Ho paura che si buggi tutto Quindi è meglio prima Non mi guardare le super parole Che mi arrabbio Mi raccomando Allora Non dovrei guardarlo Dai mi sembra un po' giusto Perché poi Ho vantaggiata E infatti non guardare Basta che non guardi Provo a stare così Mi giro dall'altra parte Guardo te Così almeno da qui Non riesco a leggere le parole Anche perché sono molto in forma Sì 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 Sta andando benissimo Già 200 Sono già 200 in pochissimo Ti tiro qualcosa No Ti vorrei tirare qualcosa Dai dammelo anche con una F Uffa Non esistono le parole Non te la puoi prendere col gioco Se non esistono Eh oh Buona caramella Vuoi mangiare? Magari capito Ti fa tornare un po' di energie Allora è il terzo round Allora è il terzo round Si seria Ok No è impossibile Devi perdere No Tu non perdi mai Quindi è bellissimo vederti perdere Capito? È un evento di quelli che vanno segnati proprio nel calendario Una parola famosissima Così il giorno Steph ha perso Capito? Proprio diventerà festa nazionale Che si chiama proprio la perdita di Steph Ma dai Ma non è una cosa bella Sto iniziando a vantarmi per la mia eventuale vittoria Non vinco mai E credo che accadrà Perché non sto già trovando parole Dovrebbe essere il round della riscossa Almeno guarda mi alzo la media Quando gioco a caso faccio decisamente più punti Si No davvero Attenzione sto andando benissimo Come hai fatto? Eh sto trovando un sacco di parole Eh sai Mi sono all'improvviso ricordato tutto il dizionario In una botta sola Bravissimo Sai quei momenti in cui ti ritornare la memoria all'improvviso Certo certo Sì ce li abbiamo presenti tutti Sì ma che scherzi E parte il dito così a caso E sei tutto 571 Non basterà Non basterà mai per fermare La furia di Ferenichi Ma che furia Aggiorno per essere sicura che qui sia tutto ok Ok Perché non si sa mai che si bugga di nuovo Eh vado Decisamente Vado Allora E' già concentrata Guardate lo sguardo Oggi che sa di poter vincere la sua prima challenge E' proprio tutta un'altra espressione Tutta un'altra faccia Che poi è l'unica volta in cui non mettiamo una penitenza O un premio Lei ha vantaggiata per vincere Ma è vero Che cosa triste Eh lo so Non c'è veramente nulla Se vuoi ti posso dare Un po' di Galak Lo vuoi un po' di Galak? No grazie E' già aperto però eh Non è neanche una barretta intera Posso fare solo una cosa E' l'unica cosa che posso fare Uh questa è bella Consolini ricordatemi per sempre Perché morirò dopo questo No battere Se mi fai perdere muori Muori Capito? Volevo rubarne il telefono Non me lo puoi togliere dalle mani Non me lo puoi togliere dalle mani Non mi batte nessuno a sto gioco Capito? Non mi puoi battere 829 punti contro 571 Per un totale di 1810 Contro un 1283 Mi dispiace Abbiamo finalmente Consolini Questo è un giorno davvero importante Perché abbiamo finalmente trovato un gioco In cui Steph è scarso Lui mi batte in tutto E' bravo in tutto In questo è scarsissimo Cioè non ci credo Ho trovato il tuo punto debole E' una figata Lo userò per sempre contro di te Cioè sei proprio scarsissimo Comunque Allora prima di tutto Comunque non ho bisogno di penitenza E la gioia di averti battuto Per una volta In modo schiacciante Perché questa non è stata neanche una vettoria Fortuna Ma è proprio schiacciante Mi basta Quindi sono felicissima così Mi fa piacere che almeno uno dei due è felice Volevo dire che Adesso facciamo un torneo assieme Come le atti Magari così Ferenichi mi fa fare un sacco di punti Allora i tornei sono difficilissimi Ma prima Mi faccia parlare per favore Ti dico Già mi hai battuto Mi devi anche interrompere adesso Vuoi fare i video da sola adesso Sì funziona così Esatto E' proprio quello Vai parla Dicevo che vi mettiamo un sondaggio Per vedere Una copia di tante sfide Continuerà Vogliamo vedere un pochettino Se volete altri giochi in questo stile Perché ad esempio C'è Draw My Things Che era molto carino Dove praticamente Devi disegnare le cose L'altro le devi indovinare Quello è fantastico Ed è molto molto bellino Quindi fateci sapere Se volete Altre sfide anche in questo stile Oltre che in giochi classici Dove ne faremo ovviamente Quindi non saranno tutte su giochi come questo Ma un po' per variare E spezzare la routine Vai E adesso facciamoci un bel torneo Allora Ti spiego un pochettino il torneo Praticamente tu devi fare Il miglior punteggio del giorno E della settimana Hai solo un minuto Quindi davvero difficilissimo E allora Inizia di noi parole Vai lati giù Lati Ok Però se non le vedi è un po' difficile Lato Esatto Oh mamma mia quanto è difficile Sati Sato Fai Erra Erra e Rai Erro Capito Tutto così Ok E anche Rai Cerra No non esiste Cerri Cerro Esistono Ceri però esiste Errai Il verbo coniugato Errai Con la isto Non capisce niente Ragazzi Così Cioè Eh esatto Poi ci domandiamo anche perché perdi comunque Allora Ascolta Siamo alleati Non mi devi insultare L'EQ Sono andato bene No Come funziona Comunque ti ho detto magnifico Grazie Perché devi piano piano Stai andando alla grande Allora devi piano piano superare il tuo record Fino a diventare il migliore della giornata E poi il migliore della settimana Ah c'è una sfida contro me stesso Esatto E contro gli altri player Ma mi potenzio Mi do 20 secondi in più Vai Vai Ci sta Ci sta Pronta Vai Sì sono pronta Dobbiamo fare più di 290 Allora Ape Sotto Ok Ape Api Poi c'è mea Mie Capito Mei Tutte queste cose Mea Mea Rare In alto In alto a destra Rara Dall'altra parte Rare 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 E quindi anche rari Esatto Ok Mira Mire Mire Mira Aiuto Difficilissimo Zia Tomi Tomi Zira Tomido Tomi Non so se esiste anche Toma ma non credo Toma Sì Nomi Nome Noma Bravissima Norma Norme Normi Questa Questa ti avrebbe battuto Forse Non lo so Non lo so Famosissima parola Ok No Mira esiste Davvero Esiste la mirra Eh no Non dubito che non esistano Dubito su come io le trovo Tra Dritto Così Tra 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 T-R-A T-R-A Non è Oh quasi mille Ottimo ottimo Sei andato benissimo Vediamo in che posizione ti mette Guarda Normi Da 89 punti Quanto è maestoso Bellissimo Bellissimo Allora Spim Ciao Merlin 731 Ciao Allora Quanto sei arrivato La posizione numero 11 Ok Ottimo Vedi ce ne sono 21 oggi E tu praticamente superi poi il tuo record del giorno Dimmi Uno come il record ha fatto 2327 Guarda quelli secondo me usano i cheat Io te lo dico Ok Te lo dico perché Cioè come fai eravamo pure in due A meno che non sei un fenomeno Un genio del male Io non so come puoi fare Non lo so Non lo so Però Secondo me siamo stati bravi Dai Direi di fermarci così per questo video È stato davvero carino carino Speriamo che l'abbiate apprezzato Una cosa un po' diversa dal solito Secondo me ogni tanto Ci sta sempre Quindi fateci sapere nel sondaggio Se volete altre sfide in questi giochi Altrimenti Torneremo a farle sui giochi abbastanza classici Spero che se riesce così Se giocciateci un like E se la prima volta che avete visto il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao Ciao Ciao